Emanuele Mazzocco, figlio del compianto Luigi, al quale ha dedicato questo Memorial una bella giornata di caldo rispetto allo scorso 30 dicembre, ma i contenuti tutto sommato non sono cambiati. Ricordo sempre vivo del caro Luigi, conosciuto da tutti come Gigino, la sua passione per il calcio, il sacrificio, l'abnegazione, il suo impegno non soltanto nel calcio di Sernino ma anche nella Valle del Volturno. Sì, siamo di nuovo qui con tanti amici a godere di una giornata di sport, ancora una volta. Come dicevi tu Pierpaolo, questa volta abbiamo voluto spostare l'appuntamento al periodo estivo, sempre qui a Cera Volturno, per fare in modo sia di godere di un clima più umido rispetto allo scorso dicembre, sia per permettere a tante persone che magari lavorano, vivono fuori, di ritrovarsi qui nella comunità di Cerro. In questa giornata, come dicevi tu, per ricordare la figura di nostro padre Luigi Mazzocco, conosciuto da tutti come Gigino, appassionato dirigente calcistico dai primissimi anni 80 fino agli ultimi suoi giorni di vita, sostanzialmente sempre vicino al mondo dello sport in generale e al mondo del calcio in particolare, con la Cerrise e con l'Isernia, con l'Isernia Calcio. Sì, appunto, con la vostra attività state collaborando con entrambe le società della città di Isernia nei rispettivi campionati di competenza, sia la Isernia che la città di Isernia, insomma, puntano a primeggiare nei rispettivi campionati, voi siete al loro fianco. Sì, noi ci speriamo davvero, siamo vicini ad entrambe le società, entrambe le società appunto del Capo Luco Pentro, così come ha fatto Papà anche noi crediamo molto nel risvolto sociale del calcio, tutto quello che il calcio può dare a una comunità come quella di Isernia. Sì, siamo convinti che entrambe le compagini possano dare il massimo in questi campionati, sia in quello di eccellenza che di promozione e, ripeto, noi seguiremo con passione come abbiamo sempre fatto. Come famiglia siamo tutti molto legati al calcio, abbiamo giocato tutti sin da bambini, abbiamo seguito tante squadre, in particolare l'Isernia, quindi facciamo davvero un in bocca al lupo a entrambe le squadre che possano davvero primeggiare in entrambi i campionati.